Ho seguito un po' la vicenda di Wikileaks e c'è una parte che potrebbe essere discutibile, un'altra invece no. Allora tutti si interrogano come mai adesso e perché. Perché sai benissimo che siamo controllati fino al... Sai che sto leggendo quel libro che mi ha dato Franco, no? Quale? Sulle tre pallottole, dove si parla di queste pallottole all'Uranio impoverito. Ah, le tre pallottole. Bene, sono qui a cena adesso con amici in città. No, no, a Bergamo, a Bergamo. Abbiamo fatto l'occupazione dell'Università stamattina e lo sto seguendo con gli studenti e mi sono divertito. Tu come stai invece? Parlo che sempre, anche a te. A che ora? Ma devi montarlo completamente o...? Ma lui Salome non c'è oggi? No, non c'è. Quando chiama a Rav sai che io devo sempre venire. Sì, di Avrema non importa, di sposto. No, ci vediamo domani mattina. Nove e mezza? Cioè, nove, nove e mezza. Va bene. A te, Baru che sempre? Lo sapevo. Bisogna montare il candelabro. Mi chiama sempre il giorno prima. Però quando il rabbino chiama io come faccio a dirlo? Non posso dirlo ai pini se non ne ho. Stiamo facendo l'occupazione? L'occupazione sta continuando. Anche domani, eh? Eh sì, perché non so se è stata approvata la legge. Oggi è pomeriggio. La passavano oggi. Però... Allora mi devo attrezzare perché se piove là dovrò sta tutto... Sai che si sta all'aperto, a piazzale Cadorna. Ma quando è? Perché domani sera si accendono. Ah! E qui niente domani sera. Cioè, dobbiamo montare un affare di 7 metri che pesa 400-500 kg in alluminio. Domani. Ma quanti volontari ci vogliono? L'ultima volta lo da solo. E io e lui, io e il rabbino. A che ora? Nove, nove e mezza. No, adesso mi ha chiamato e fa... Si viene chiamato. Cioè, su 8500 ebrei che ci sono a Milano, deve chiamare uno a Bergamo. Ah, per andare a Milano? Certo. Cioè, non ci sono su 8500 qualcuno che farà aiutare a montare il candelabro? Cioè, io e lui l'abbiamo montato e modificato. Quindi io so com'è fatto perché l'abbiamo sistemato insieme. Devo dire sì. Però lui con me, il padre, lui è sempre gentile. Il padre che non ha una buona feeling con me. Cioè, shalom. Ah, qui l'anziano. Invece, Raff Michele è sempre stato... Sempre stato. Io mi apposio anche mai il padre. Come mai? Ma mica per quella storia dell'involucionismo? No. No, proprio per me che riguarda Franco. Ah, perché Franco non sta salato. Ha fatto proprio difeso, eccetera, eccetera. Ah. Eh, vabbè. Ma è carino. È un'altra generazione, infatti. Franco non ci va più. Eh, infatti, me l'ha detto. Però vabbè, domani glielo dico. Guarda che sono. Ma Franco è il pro carino alla fine. Eh? È speciale, ma è carino, Franco. Ma è matto, è matto. È matto? È matto dalle gare. Ma è buono, dai. Certo, ma è matto. Quindi lui, quando al Tempio andava a giro con la cannuccia a bere il vino delle persone che si venivano a sedere, che è stato richiamato da Simi e ha detto, guarda che sono persone che non vengono più perché tu fai questa cosa. Ho offeso lui, ho offeso loro. Ha confuso cianucca con cannuccia. Ecco qua. Ieri, ieri ci voleva appunto cominciare ad andare a Milano e diceva, venite quando, venite quando, no? Mi fa. E diceva, venite a che ora? È arrivata la sanzo. Dico, guarda che io c'ho la macchina. E mi fa. No, no, ha cominciato a urlare. No, 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 urlava che si sentiva. E io, io mi sono, io sono scoperta a ridere. Perché ho detto, sai della, della amica che mi ha presentato, siamo alla banca di cognomi. Sì. Gli ho detto, guarda che, parlava della banca, ha preso il mio libro. Ha cominciato dal fuori amico che ho detto la banca. Ma porca miseria, ho detto, ma rega il cognome, tu lo sai. Lui. Che cosa? Lui che, quando ha fatto la traduzione del libro di Barry Hamish. Eh. Che mi ha dato il manoscritto da nascondere la casa. Una mattina si è ritrovato il computer e l'ho scurato. Ah, già. Gli ho detto, stai attento, stai attento perché tu continui a fare così. A te non possono fare nulla perché sei un ebreo chiaramente, ma... E hanno scurato tutto. Ma cosa è successo? Non so che tu ti ha implementato la banca. Lui ha traduzione. La banca ha un cognome. Aveva detto, c'è questa amica che mi ha presentato Marco, si chiama la banca. Perché io non so il nome, non lo ricordavo. Che cosa dici la banca, lo sai? E' come quando, come mio cognato, come non sono a Libia e Tripoli. Ma porca miseria, nessun lavoro in Libia, che cosa ci posso fare? Ah, ha cominciato a urlare per il cognome. Per i nomi, guarda che ci controlla. Lui, che dice a me, si controlla. Lui. E ne hanno scurato il computer una mattina. Sai con il dire oscurato? Non c'è più una gazzetta. E perché gliel'hanno scurato? E provento di andare. Per il libro di Barry Hamish. Chi ha ucciso i sacrabi? L'ha cominciato a spedirlo dappertutto. Scusa. Hanno una proposta, c'è dappertutto. L'hanno scurato. Cioè, gli israeliani hanno una tecnologia che ti possono anche fermare l'automobile in... Non so se è presente l'ultimo attentato che ha fatto a Gaza. Cioè, nessuno sa com'è successo perché non ha sentito né missili né esplosioni. C'è stata una decomposizione, una destrutturazione di tutto il materiale. Si è destrutturato l'automobile. Infatti, adesso nel libro che mi ha dato Franco, c'è indicata sta roba, no? È una macchina... E si chiama Triparlottole? Il titolo del libro si, per te lo darò da lei. Ma di chi l'ha scritta? Ehm... Che a me non mi ha detto niente. Sì, ma è sulla fusione fredda, quindi è tutto un discorso che riguarda il principio della fusione fredda, no? Dal 1989, eccetera, eccetera... Sono queste riviste del 35 che devo recuperare in tedesco. E... Parla di questo materiale, di queste nuove armi che in effetti non servono più le fissioni atomiche. Le armi atomiche sono delle sciocchezze, davvero. E' un materiale che si autodistrugge? Cioè, praticamente, immette un sistema, come si potrebbe definire, quasi a risonanza, per simpatia, che destruttura il materiale. Cioè, è come se tu avessi questo tavolo, a fine tu lo ritrovi in terra, non lo farei così. E questo lo stanno già provando, però il partimento americano sta un po' zitto. E' più della fusione? Ci si avvicina, allora lui mi fa, devi studiarlo, infatti rispetto al palladio, eccetera, dovrebbe usare tungsteno, però io non so entrare ancora in merito, perché non ho i meriti. Ma perché tu ti sei occupato di queste cose? Nel mio libro, sì, infatti me l'aveva suggerito lui, allora... ...di materiali speciali? Sulla polsola, fusione fredda. Fusione fredda che, secondo me, è possibile, in quanto il deuterio è presente in quantità enormi nell'oceano. E allora io parto dal presupposto che l'acqua, che è questa qui, tu la veri liquida, ma l'ossigeno e l'idrogeno per liquefarsi vanno dai 180 ai 120 gradi sotto zero. Ora, come fa a rimanere liquida? Vuol dire che la struttura atomica è congelata. E allora io ho pensato da... che loro si affermi, eccetera, pensavo che ci fosse questa colla, no? Perché non riuscivano a capire, la chiamavano bosoni, eccetera. Ma secondo me il ghiaccio funziona come una colla. Certo, non è un ghiaccio come quello che vediamo. Allora, siccome ho supposto che il nucleo del sole sia congelato nel mio libro, allora sono andato dietro a questa teoria. E allora, secondo me, quello che avviene è uno sviluppo di calore enorme che viene trattenuto all'interno di questa condizione di congelamento. Secondo me sono congelati gli atomi. Gli atomi dell'acqua? Sì, sì. Altrimenti liquido come si forma? Cioè come fa a stare in piedi di una struttura del genere? Non può stare in una struttura normale, in quanto per liquefarlo noi abbiamo bisogno di ricondurlo allo stato molecolare. però va compresso. Mentre in questa condizione, se liqui fa quella temperatura, come fa a rimanere liquido così? Scusa. Cioè noi la beviamo tutti i giorni. Motivo? E allora sono supposizioni. E su questo libro si parla adesso di queste pallottole che sono state utilizzate nella guerra dei Balcani e che sono state utilizzate nella guerra dei Balcani.